L'Italia settecentesca era una terra avvilita nell'asservimento allo straniero. Quasi tutta la nostra penisola fu coinvolta nella politica spagnola per circa due secoli. Il preoccupante e cronico stato di malessere della Campania sfociò nella rivolta antispagnola e antifeudale di Masaniello, che vide in azione a Sessa e nel suo territorio Domenico Colessa, che imperversò in città finché non fu costretto alla fuga. In quello stesso secolo, Sessa fu colpita dalla peste e dal grave terremoto. La situazione era davvero difficile, sia per l'intera cittadinanza che per tutti i suoi casali. Tra questi ultimi vi era Lauro, che dista da Sessa all'incirca 6 chilometri, con altitudine di circa 90 metri. Non erano affatto tempi prosperi per l'intero territorio, ma nonostante ciò qualcosa di meraviglioso accadde in questi stessi anni nel nostro piccolo paese. La tradizione popolare racconta che una pastorella sordomuta conduceva le capre al pascolo. Una sbrancò dalle altre e, pascolando da sola presso un burrone scavato dal corso delle acque piovane, bicate. Timida e premurosa, la fanciulla lascia le sicure che aveva sott'occhio e si dà in cerca della capra smarrita. Guarda, spia nel burrone, scorge la capra. Ad un tratto il suo sguardo viene attirato da un bagliore. D'incantevoli forme, candida come neve, fulgida come sole, ecco, la Vergine le appare e le dice Va dal parroco e dai notabili del paese e di loro, che mi facciano erigere una chiesa, qui, in questo luogo, su questi tre pozzi, dove tu mi vedi. Ma la pastorella soggiunse, e chi mi crederà? La Vergine rispose Non udivi e odi, non parlavi e parli, questo è più che segno manifesto di quando vai a narrare. La pastorella allora adempì alle richieste della Vergine. Il popolo, intenerito dall'apparizione e dal miracolo operato in persona della pastorella, fece edificare l'umile cappella, che tuttora si erge sui tre pozzi, sito dell'apparizione. Si suppone che la costruzione della cappella risalga al 1638. Ciò viene testimoniato dall'esistenza della vecchia campana, esposta all'interno del santuario, sulla quale vi è inciso Anno Domini 1638, detora famiglia 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 keiner Vecchia E' hiera di volta Sei tu, Maria, sei quella Cui pari il cielo non ha Sei tu, Maria, sei quella Cui pari il cielo non ha Sei tu, Maria, sei quella Sei tu, Maria, sei tu, Maria Sei tu, Maria, sei tu, Maria Il Cristo amore. 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 Il Cristo amore.